amici di cape town music buonasera nuovo appuntamento con cape town bellezza buonasera maddalena chianese buonasera mino buonasera a tutti allora quest'oggi grazie a simona che si è prestata per questa puntata faremo una fangoterapia localizzata la pancia e in più mettere monteremo una presso la presso terapia che già abbiamo vista nelle puntate precedenti allora andiamo a vedere maddalena chianese approfittando della simona qui presente come funziona la fangoterapia guardiamola insieme a 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 allora in effetti abbiamo visto che dopo aver messo il fango che ha un nome preciso e proprio fango no è questa è un alga pack fatto di alghe però possiamo mettere anche la fango classica il fango classico tutto quello che fa a drenare visto che stiamo ancora nel periodo dopo pasco abbiamo fatto la frigo questa invece la fango abbiamo spiegato la frigoterapia nella puntata precedente che è molto più profonda della fango della fango della fango